Ciao a tutti, un grandissimo saluto dalla Tunisia e dal professor Ammadi Agrebi. Mi trovo qui nel mio piccolo balcone tra le due bandiere unite, quella tunisina e quella italiana, unite soprattutto grazie ai versi danteschi e al Dante Di, che sarà veramente una bellissima occasione per sentirci tutti uniti. Vi leggo subito alcuni versi quindi del primo canto inferno. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspre e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poche più morte, ma per trattar del ben che vi trovai dirò che l'altre cose che vi scorte. Io non so ben ridir come vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace vi abbandonai. Ma poi chi fui al piede d'un colle giunto, laddove terminava quella valle che m'avea di paura il corco punto? Allor fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata, la notte che passai con tanta pieta. E' come quei che con l'ena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata. Così l'animo mio che ancora fuggiva, si volse a rettro a rimirarlo lo passo, che con la sciò giamai persona viva. Questa è la mia vettura, la dedico all'Italia e dovete essere sicuri che ce la farei. Ciao da la Tunisia. Grazie. Grazie. Grazie.